E' arrivata! E' arrivata! E' arrivata la signora Glavari! 20.000 milioni! Andiamo a riceverli! Ah, pardon! A riceverla! Pronti per la grande manovra finanziaria da un gioco in Rielsa! 20.000 milioni! 20.000 milioni! 20.000 milioni! 21.000 milioni! 21.000 milioni! 21.000 milioni! 21.000 milioni! 21.000 milioni! 22.000 milioni! 22.000 milioni! 22.000 milioni! 22.000 milioni! 23.000 milioni! 24.000 milioni! Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Grazie signori, grazie eccellenza. Per ricambiare la vostra squisita gentilezza venite domani a casa mia per un'autentica festa Pontevedrina. Siete tutti invitati. Amate il ballo signora? Certamente! Chi mi offre il braccio? Io! 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 Quante braccia per i miei milioni! Barone, datemi il vostro! Sono preferito! Siete il meno pericoloso! Quella me la sposo io!